Sarà allestito il giorno di Santo Stefano, il tradizionale mercatino del sabato a Pian del Lago. In un primo momento, infatti, su richiesta degli operatori commerciali e dell'associazione di categoria Cidec presieduta da Carmelo Milazzo, si era ipotizzato di slittare l'appuntamento settimanale del mercatino eccezionalmente a lunedì 28 dicembre, vista la coincidenza della festività. Una richiesta sulla quale l'assessore alle attività produttive Massimo Bellomo, pur avendo qualche riservo in merito, aveva dato mandato agli uffici competenti per espletare gli adempimenti necessari. Riservo espresso anche da altri sindacati e da alcuni diretti interessati. Infatti, lo spostamento della data al 28 dicembre avrebbe, da un lato, consentito ai 260 operatori commerciali di recuperare la giornata lavorativa. Dall'altro lato, avrebbe penalizzato gli altri 160 ambulanti che ogni lunedì allestiscono i loro stand nel quartiere Santa Germana a San Cataldo, senza considerare il fatto che molti degli ambulanti che solitamente allestiscono le loro bancarelle a Pian del Lago, il lunedì si ritrovano a San Cataldo. Il mercatino del 26 dicembre potrebbe dunque essere per i nissegni un'occasione per smaltire qualche caloria in più accumulata durante il pranzo di Natale e trascorrere una mattinata durante la festività. La Cidec aveva inoltrato un'istanza all'amministrazione comunale per poter spostare il mercatino settimanale da sabato 26 al lunedì 28. Quindi doverosamente l'amministrazione e gli uffici hanno istruito la pratica e hanno raccolto anche il parere delle altre sigle sindacali che non hanno ritenuto di dover seguire la Cidec in questa iniziativa. Per cui istruita la pratica l'amministrazione comunale ha ritenuto di dover mantenere la data di sabato 26 quale data in cui si svolgerà regolarmente il mercatino settimanale del sabato.